Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono BellaFaccia e bentornati sul mio canale e sulla serie principale di Minecraft Allora ragazzi mi trovo qui nel corridoio, non so nemmeno il perché mi trovo qui nel corridoio Comunque sia, nello scorso episodio ragazzi abbiamo fatto la farm di neve Vi è piaciuta veramente tanto, mi avete anche consigliato un sacco di nomi per il pupazzo di neve Però ragazzi io l'avevo già chiamato bastoncino quindi magari ecco per il prossimo pupazzo di neve potremmo potremmo Scusate, potremmo pensare un nome perché ragazzi con tutta la neve, maledetto slime che non mi fa mai correre Stavo dicendo ragazzi che con tutta la neve finalmente potremmo fare un'arnia Avevo fatto delle prove, salve signor pupazzo di neve Avevo fatto delle prove perché avevo messo un blocco di ghiaccio, un blocco di neve normale E un, come si chiama, una lastra, una lastra di neve, non lo so come possiamo chiamarla signore Signore, signore, oddio Non si scaldi Quindi ragazzi devo pensare come fare questa stanza però voglio farla molto carina Ok ragazzi comunque sia passiamo oggi da un episodio cioè l'ultimo episodio siamo passati dalla neve, dalla farm di neve Oggi ragazzi mi vedete con questa mele in mano ma più che altro sono armato, sono armato fino ai denti Perché voglio andare nel nether finalmente ragazzi perché voglio trovare una farm di blaze più che altro Perché mi servono le pozioni, ci servono quelle pozioni maledette per far tornare quei villager sani di mente Perché sono impazziti quando gli zombie li hanno visti A parte gli scherzi ragazzi io direi che è ora di cercare la fortezza anche La fortezza ecco mi stavo per scordare, fortuna che ti ho visto macchiolina Noi siamo qui macchiolina perché a me mi serve il tuo Oh sentite che rumore non l'avevo mai sentito Ci serve il latte di macchiolina, grazie mille macchiolina perché se ci trovano per caso quei maledetti scheletri neri Non mi ricordo come si chiamano, gli scheletri neri si chiamano, boh non mi ricordo Comunque sia ci avvelenano quindi ci servirà un po' di latte di macchiolina Grazie mille macchiolina, il tuo latte non verrà sprecato Che buono mamma mia questo latte Ehi, porchetta dove stai andando? Non mi pestare le cose, hai capito? Porchetta, te la smetti, non devi mangiarmi le cose Basta Ah maledetto maiale Ok ragazzi io direi di buttarci subito Siamo pronti, siamo armati, vediamo C'ho due mele d'oro, bella spada Il cibo ce l'abbiamo Ok, l'arco, frecce Andiamo subito a cercare la fortezza Buttiamoci Sperando che non ci sia un creeper ad aspettarsi di là Ok, direi che Direi che questo ragazzi è il punto adatto dove scendere Ma proprio no Ok ragazzi comunque sia volevo dirvi che molti di voi mi hanno consigliato di cavare la shaders dentro il nether E mi sa che in questo episodio la tolgo ragazzi perché è un po' troppo buio Non so se si vede molto Ho paura che voi non riusciate a vedere bene il paesaggio Quindi proviamo a cavarla, vediamo come cambia Oddio Com'è diverso Siamo tornati alle orizini Comunque sì almeno Ecco gli oggetti brillano Vediamo l'inventario Vediamo un po' tutto Ecco così ragazzi si dovrebbe vedere un pochettino meglio Facciamo così ecco Quando entriamo nel nether magari caviamo la shaders E vediamo anche se quando devo andare nel land Se sarà la stessa storia Ragazzi guardate c'è un caccolino di magma Un caccolino di magma Vieni qui, vieni qui caccolino Oddio non cascare di sotto altrimenti è finita Vieni qui, vieni qui che ci serve Ci serve, ci serve questo Ci sarebbe bello portarlo a casa ragazzi Ma come faccio, è impossibile Oddio non mi cascar giù eh Bello, 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 bello Non mi ha dato niente Maledetto Di qua, di qua, sì di qua Ciao proprio Sono spawnati in un punto col portale proprio orribile Orribile Per fortuna ci sono i miei pigmen amici che mi tengono compagnia Grazie pigmen Non saprei come fare senza di voi Ok andiamo verso di là Che un pochettino ragazzi guardate Ero già passato ma solo per andare a prendere la glowstone Che mi serviva a volte Lì c'è un enderman Non so perché c'è un enderman Cos'è da guardare? Fatti fatti i tuoi Maledetto Signore enderman Si è perso? Ha perso la strada di casa Mi farebbe comodo però un ender pearl Mangiamo qualcosa prima Signore enderman Signore enderman Ha un po' di prurito nella schiena Gli gratto un po' la schiena io Non si preoccupi No Vattene via Ma guardate Ah si due perle di ender Perfetto Devo stare attento a lanciarle Queste altrimenti Oddio 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 ce ne sono due Ecco uno preso Vai vai con l'altro Vai con l'altro Wow che mira Dove è andato? Dove è andato a finire? Ed è spawnato? Ma dove è andato ragazzi? Cioè è sparito? Cacca di ghast Si guardate ragazzi Ha droppato la lacrima di ghast Wow Presa Lacrima di ghast Perfetto C'è nessuno C'è nessuno Una fortezza Qualcosa Oh mio dio Quanto è grosso Ragazzi Guardate che robo È imbenso Oddio Ciao Come ti chiami? Non mi No Non è divertente saltare in testa le persone Guardate il magma si ha trovato Via Via Fuori tutti Via Andatevene Moscerini Via Subito Datemi La vostra bella crema di magma Che devo fare il gelato per domani Due creme Così grosso due creme Basta Ragazzi Ragazzi Abbiamo trovato la fortezza Abbiamo trovato la fortezza Coordinate Uuuuh Ragazzi Guardate È là Andiamo subito Calma che Non voglio morire Come un nabettino Come sempre Oddio ragazzi La nostra prima fortezza Uuuuh Arriviamo subito Oddio Oddio Vedo già un blaze lì Vedo già un blaze ragazzi Perfetto C'è già la farm di blaze Farm di blaze Farm di blaze Che ci spara di già Ci sta già sparando Quel maledetto Non ci pensare No non voglio Rischio di beccare il pigman Ragazzi Meglio che Lo dobbiamo aggirare Maledetto che non sei altro Proviamoci Prenditi questo E non rompere C'è già uno scheletro Una fortezza terribile Abbiamo sbloccato Allora Andiamo su Andiamo su Andiamo su Andiamo su Si stanno scannando Di bruttoli Guardate cosa sta succedendo Si sa un wither scheletro E mi ha preso Quel maledetto Oddio Aiutami Cubettino Mi stanno sparando Mi stanno sparando di tutto Ragazzi guardate Quel maledetto Te la smetti Te Adesso Non rompi Ok mi stanno continuando A sparare Quindi direi di Rispondere al fuoco Beccatevi questo Oddio là c'è un pigman Una barra di blaze Non posso rischiare Di beccare quel maledetto Beccati questo Ok perfetto Ragazzi una barra di blaze Progresso compiuto Nuove risette sbloccate Si lavambricco ragazzi Finalmente Ok ok Passiamo una cosa per volta Là c'è lo scheletro wither Che vado subito a prenderlo Che mi interessa molto Vattene Ok perfetto Ragazzi guardate Il wither Lo scheletro wither Guardate com'è cattivo Vattene Via non ci pensare nemmeno eh Di colpirmi Fuori di qui Non si posso credere Non si posso credere Progresso compiuto Scheletri nell'armadio Ragazzi abbiamo la testa Del wither Guardate Siamo Siamo diventati Il wither Non ci credo Grande Benissimo Benissimo Allora rimettiamo l'elmo Magari grazie Allora fammi buttare Un po' di Tutto questo netherrack Che non ci serve Guardate ragazzi Il teschio di scheletro Del wither Di già Io non ci posso credere La verga di blaze Già due Perfetto Un altro blaze però Che vuole Una bella lezione Un'altra lezione signor blaze Un'altra verga Grazie mille Troppo gentili signor blaze Andiamo là che vedo dei mostri Ci potrebbe essere un mob spawner Spero tanto di sì Spero tanto di sì Là c'è un altro Oh Oddio Vattene via No ragazzi Mi attaccano Vattene via Uno Preso Preso l'altro E preso anche il suo amico Ha T'ho schivato tutto Perfetto Lì eliminiamo tutti i noiosoni Oh è cascato 18 Scusami non volevo Oddio ragazzi Sta arrivando Ma chi è che mi spara Ma chi è che mi sta sparando Questo fuoco maledetto Io so anche lo scudo Mi sono scordato Beccati questo Vediamo se con lo scudo mi fa male Dai Ha Non mi fai niente Ecco il mio scudo Ale Perfetto Ok non ci ha dato nulla Questo giro Io direi di tenersi lo scudo Ragazzi Che ho un po' di paura Prendiamolo con la spada Che abbiamo sacchezzo Ragazzi Che ci dà un sacco di roba Dai Oddio Non ci pensare No No Oddio Quanta gente No 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 Allora uno alla No quello lì ragazzi Quello viene di qua No uno alla volta No 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 Via via Una mela Una mela Una mela Fatemela mangiare Perché sono un po' in difficoltà Ok Ok forza Venite Se ne è per tutti Andatevene via Uno alla volta Uno alla volta Uno alla volta No no Allora Dai via Via tutti No Mi stanno mettendo all'angolo Ok Ok Sono fatta ma hanno anche avvelenato Latte di macchiolina Grazie macchiolina Quanto ti vogliamo bene Che ci hai salvato la vita Ok Perfetto Ma la sono cavata L'ho vista brutta Devo ammettere però Via tutte queste palline Palline di cacco Via Via Sì Sì ce l'abbiamo ragazzi Ce l'abbiamo Guardate cosa abbiamo trovato Sì Il mob spawner Di blaze Oddio Chi mi sta sparando Quindi segniamoci subito le coordinate Perfetto Grazie mille Ho fatto una foto Che io Non sono capace di fare uno screen Oddio Via Via maledetti blaze No no Mi devo riparare Mi devo riparare Ecco Non ce l'ho fatta Ok L'effetto della mele è finito ragazzi Ok 8 verghe di blaze Ne vorrei un pochettino di più Però Devo essere sincero Hai stufato Hai stufato Vattene Guardate come schiva Oh Vattene via Allora Io avevo visto un'altra via qua Perfetto Andiamo a vederla Andiamo a vedere Vedere Oh Quasi sono Oh Un po' di corridoi E la cosa si fa interessante Anche un po' Paurosa C'è una torcia magari Ecco Metto la torcia Così so che ci sono stato qua Io ci sono stato Posso dirlo Ok Nel piano superiore Ma si andiamo nel piano superiore Aglia Sono anche caduto Perruche Dove siete? Un po' di casse Oh bellissimo Qua tutto chiuso Magari c'è qualcosa Una stanza nascosta C'è una stanza nascosta? Niente Niente di niente Quindi andiamo pur giù Ok Oddio Oh ragazzi Oh no Non avete capito niente Vattene Vattene via 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 Mori Ok Perfetto Questo è andato Guardate quel maledetto Si protegge con i pigman E' furbo E' furbo Quel maledetto Blaze Che mi spara Ma non ha capito niente Cerchiamo ad andare avanti Piano piano Ragazzi C'è anche Uno scheletro Wither ragazzi Attiriamoli pian piano Forza 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 scheletro Beccati questo Beccati questo Questo E non ce le danno più le teste Sono stati generosi all'inizio Ragazzi Maledetto Blaze Maledetto Oh Vattene via Un altro spawner di Blaze Qua su cosa c'è Qua su non c'è proprio nulla Mettiamo una torcia Mettiamo qua Uh Qua c'è un altro spawner Ok C'è un altro spawner di Blaze Perfetto Di questi maledetti Prendete questo Ci metto anche una torcia Sopra Imparate così Eh Dove sono le casse Dimmi dove sono Quelle maledette casse Questo dungeon Non è granché O un altro scheletro Uh Scheletro Due scheletri Scheletrini Scheletrini Chi è che non mi spara Maledetti Maledetti Oddio Arrivano da tutte le parti Facciamoli fuori tutti E uno è andato E l'altro Vuole andare anche l'altro Ma sì che vuole andare anche l'altro Lazzù Com'è fai a vedermi Dallazzù Oh guardate quanti ce ne sono là Oh l'ho preso Da qua giù Forza scheletri Datemi le vostre teste Perché te non ti muovi È una statua quella Che non si muove Battene via Forza Meno uno E meno due Perfetto Sono anche salito di livello Qua giù ho visto del movimento sospetto Movimento sospetto laggiù C'è anche No ma ed è spawnato Ma perché Ed è spawnato lo scheletro ragazzi Avete visto? Ma non è giusto Ha paura Ha paura Ha preso paura È uscito dal gioco Vediamo qua Qualcosa ci può essere Ma perché si chiude qui? Ma perché non c'è più niente? Lavori finiti Di già Vabbè Vabbè Oddio Salve Salve Beccati questo nella testa Maledetto Cosa vuoi? Te che non sei nemmeno di questo mondo Vattene via Te via ragazzi Devo usare l'arco Perché ho paura qui Non voglio rischiarmela Basta Blaze Maledetti Te la sei cercata Maledetto scheletro Bravissimo Pigman Così ti voglio Oh mio dio No Perché viene da me questo ragazzi? Perché sta venendo da me? Perché questo sta venendo da me? Io non ho toccato nessuno Non ho toccato nessuno Perché? Perché stai venendo da me? Ma mi attacca questo maledetto Questo mi attacca Questo mi fa male Questo mi fa male Ma se lo becco Mi arrivano tutti quei maledetti Pigman Maledettacci No Te non passi di qui Capito? Ma cos'è che vuoi? Io non ho Io non ho toccato Nessuno non ho toccato E' inutile che fai così Ma niente ragazzi Gli è passata la voglia Non vuole più attaccarmi Credo Vuoi questo? No Salve No Non vogliono più attaccarmi Non so come mai Oh mio dio Quanti sono? No No Beccati questo Beccati questo Quest'altro Arco Arco dove sei? Beccalo Bravissimo Sì Una cassa Una cassa Vai Cosa c'è dentro? Wow Quanta roba interessante Nulla Questi vabbè Li prendiamo Però non è che Mettiamo una torza qui Dai Dimmi che ci sono le verruche Oh Salve No No Non volevo disturbarla Non volevo disturbarla Mia Maledetto Di qua c'è qualcosa C'è una cassa Che era custodita da quello scheletro Non è che ci fosse tanta roba Cassettina Altro oro Non male Grazie per l'oro Sì ragazzi Sì Le verruche Abbiamo trovato Anche le verruche Sì Le verruche Sì Tutte mie Tutte mie Verruchine Sì ragazzi Nuove ricette Guardate altri blocchi Abbiamo così Verruche Verruche Venite qui Verruche Ok Devo dire che questo viaggio È stato molto Molto utile Molto utile Questo viaggio Ok ragazzi Allora Là sotto c'è un ghast Che presto farà una brutta fine Comunque sì ragazzi Ho esplorato la maggior parte Di questa Fortezza Devo dire che Ancora non l'ho esplorata Proprio tutta Però abbiamo trovato Diciamo Abbastanza Cosini interessanti Abbiamo trovato Una testa Di scheletro Di Wither Wow Che bella Che possiamo anche mettersela Guardate come siamo belli Alla moda Poi abbiamo trovato Diciotto verghe di blaze Magari mi fermerò A farmarne un altro po' Ragazzi Poi abbiamo preso Tre lacrime di ghast Poi qualcos'altro Di interessante Ah Le verruche del nether Ovviamente Ragazzi Finalmente potremo fare Un sacco di cose Con le verghe Le verruche Wow 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 Poi altre due teste Di questi Double Wow Quindi ragazzi Io spero che l'episodio Vi sia piaciuto Lasciate un like Se vi è piaciuto Ovviamente Vi auguro una buona giornata Ragazzi E ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti